Federica Pellegrini ha mostrato il suo fisico a quattro mesi dal parto senza avere paura di far vedere, anche, le imperfezioni. Una decisione coraggiosa quella della campionessa di nuoto che ha deciso di non photoshopare o nascondere le conseguenze che la gravidanza ha avuto sul suo fisico facendo vedere a tutti anche il brutto. Una decisione coraggiosa quella della campionessa di nuoto che ha deciso di non photoshopare o nascondere le conseguenze che la gravidanza ha avuto sul suo. Un argomento, questo, molto delicato per le neomamme che tendono a mostrarsi sempre nel migliore dei modi e a nascondere quegli inestetismi post parto che, vuoi o non vuoi, ci sia. Ma la divina ha deciso di rompere un tabù e dare alle donne un esempio di coraggio e normalità facendosi vedere in bikini con la pancia ancora gonfia diversi mesi dalla nascita della sua bimba Matilde. Ma la divina ha deciso di rompere un tabù e dare alle donne un esempio di coraggio e no. Così, questo semplice scatto di una neomamma con la diastasi addominale è diventato un modo per far sentire tutte le donne un po' più sicure di sé con i loro difetti fisici e un po' meno soli. Così, questo semplice scatto di una neomamma con la diastasi addominale è diventato un modo per far sentire tutte le donne un po' più sicure di sé con i loro difetti fisici e un po' meno soli. Così, questo semplice scatto di una neomamma con la diastasi addominale è diventato un modo per grazie per aver mostrato questo scatto di normalità ha commentato qualcuno sotto il suo post grazie da tutte le mamme che purtroppo dopo il parto non si sentono più belle è il messaggio di una grazie per aver mostrato questo scatto di normalità ha commentato qualcuno sotto il suo post grazie da tutte le mamme che purtroppo quello di Federica Pellegrini con la pubblicazione su Instagram del suo corpo post gravidanza è stato un forte messaggio di body positivity lanciato a tutte le donne che, come lei, hanno dovuto quello di Federica Pellegrini con la pubblicazione su Instagram del suo corpo post gravidanza è stato un forte messaggio di body positivity lanciato a tutte le donne